La provincia di Salerno è seconda a Napoli per numero di reati ambientali, ma quinta a livello nazionale secondo quanto emerge dal rapporto sull'ecomafia redatto come da tradizione dell'Ecambiente, che mette in classifica le province italiane in base al numero dei reati ambientali. Salerno è addirittura seconda a livello nazionale se si considera la classifica degli incendi scoppiati nel 2020, 335 tra dolosi, colposi e generici. La provincia di Salerno supera così Cosenza che si conferma prima provincia d'Italia. Nel ciclo dei rifiuti la Campania piazza ben quattro province nelle prime sei posizioni. La più colpita a livello nazionale è Napoli con 522 infrazioni. Segue Caserta mentre la provincia di Salerno è al quarto posto con 227 infrazioni. Sesto posto per Avellino chiude la provincia di Benevento con 57 infrazioni. Nel ciclo del cemento ancora primato negativo per Napoli che svetta a livello nazionale con 368 reati. La provincia di Salerno si piazza al terzo posto con 266 infrazioni ma per la provincia di Salerno è un risultato positivo perché l'anno scorso era prima. Scende al sesto posto la provincia di Avellino con 214 infrazioni a ruota segue Caserta e poi Benevento. In generale la Campania si conferma la regione dell'ecomafia a livello nazionale. A livello provinciale la maglia nera per illegalità spetta sempre a Napoli. Il business dell'ecomafia ha dichiarato Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania, minaccia gravemente il futuro della nostra regione. Non si deve assolutamente abbassare la guardia, ha dichiarato il vertice di Legambiente e invitando a spendere le ingentissime risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza proprio in questa direzione. Non c'è più tempo da perdere.